Il colore del deserto soddisfa il bianco totale del sale, circondato dal blu greco. Città del castello tradizionale, impressionanti creazioni umane, splendida natura incontaminata e infiniti momenti romantici. Isola di Lemnos. Igeo settentrionale Grecia. Lemnos ha una popolazione di 17.000 persone. La sua capitale è la bellissima città di Mirina e è l'ottava isola più grande della Grecia. È 40 minuti d'Atene in aereo 3, 5 ore da cavale e 9 ore dall'Avrion in traghetto. È prevalentemente pianeggiante, quindi più di 30 spiagge sabbiose. Famoso per una varietà di prodotti artigianali di alta qualità e tradizione agricola. Una delle maggiori attrazioni dell'isola è il castello. Fu eretto dall'imperatore romano Andronicus il primo conneno sul sito di mura più antiche, molto probabilmente antiche. Negli anni 70, Rodi donò alle nostre cervi. Ora ci sono circa 50-70 cervi che vivono liberamente tra le mura del castello, aumentando il piacere della tua visita. Il castello divide Mirina in due quartieri balneari, il romeico e il turchico Ialo. Goditi la passeggiata in ognuno di essi. Viste diverse, stessa bellezza. Le migliori spiagge Spiaggia di Keros. Sabbioso, parzialmente organizzato, appartato. Il forte vento rende questa lunga spiaggia ideale per il windsurf e altri sport acquatici. Ideale per roulotte, mentre offre servizi di glamping, ovvero un campeggio Glamour. La spiaggia di Thanos. In parte organizzato, sabbioso, adatto alle famiglie. Questa lunga spiaggia ha sabbia soffice e acqua pulita. Le parti sinistra e destra di questa spiaggia sono organizzate con lettini e ombrelloni nel famoso bar sulla spiaggia Costa Epanteles. Spiaggia di Avouli. Sappia fine, verdi, acqua e cristalline. Al bar sulla spiaggia di Avouli puoi trovare cibo, bebanda e musica per feste. Spiaggia di Gomagi. sfasciuti, abbioso, appartato, non organizzato. Spiaggia di Gomagi. Spiaggia di Gomagi. Windsurf. Sabbioso, appartato, non organizzato. Spiaggia di Gomagi. Spiaggia di Gomagi. Spiaggia di Evgat, 7,5 km a sud-oxt di Mirina. Grotta dei Filotteti. Entra attraverso il sito del santuario di Kabeir. Questo angolo di Lemnos è pieno di mistero e offre adrenalina e una varietà di emozioni mentre ti godi i tuoi momenti di nuoto. Spiaggia Mirina. A pochi passi, su ciascuna delle due sponde della capitale Lemnos. Le migliori attrazioni. Efestia, antica città e teatro. Le rovine di Efestia sono ciò che rimane di un'antica città che fiorì durante il Boilibu secolo ac. Il dio Efesto era il suo protettore e quindi era adorato il teatro e semplicemente fantastico. Cappella Panagia Cacabiotissa si trova all'interno di una cavità rocciosa ad un'altitudine di 260 metri. Fu fondata nel 1416 a c. Pia era un rifugio per monaci ed i remiti richiede una camminata di 20 minuti. Attraverso un percorso questa gemma nascosta ha una posizione suggestiva con una vista impressionante sul mare e sul fianco della montagna di Lemnos. Il momento migliore per visitare sarebbe la sera quando la cappella è inondata di luce naturale. Dunne di sabbia dorata, queste formazioni naturali stanno coprendo un'area di 70.000 metri quadrati. Un fenomeno estremamente raro, almeno in Grecia. Questo paesaggio surreale sta attirando sempre più visitatori ogni anno. Laghi salati. Vicino a Contopoli si trovano le zone umide della natura. 22.000 composti da tre laghi, alichi, ortarolimni e sprolimni producono sale di alta qualità. Molti uccelli migratori trascorrono del tempo qui, come qualsiasi amante della natura vorrà. Santuario di Cabbeiri, 37 km a nord-ext di Mirina. I Cabbeiri erano i figli di Efesto e il santuario era la scena dei misteri cabbeiriani. Erano collegati alla rinascita della natura e della fertilità. Molini e vento di Limnos, 10 km a oxt di Mirina. 5 bellissimi mulini e vento si trovano sopra il villaggio di Contias. Puoi ammirarli o sperimentare come vivere al loro interno. Spia termale 7 km a nord di Mirina, vicino al villaggio di Cornos. Nel caso in cui la spia sia chiusa, puoi visitare il luogo, bere gratuitamente l'acqua calda curativa per non parlare del riempimento di alcune bottiglie e fare una doccia all'aperto in strada. Villaggi in Lennos Villaggi in Lennos Contias, 10 km a oxt di Mirina. Contias è uno dei borghi più belli di Lennos. A case tradizionali in pietra e le strade sono fiancheggiate da aerei e alberi di Lilla. Tanos, 4 km a sud di Mirina. Questo villaggio tradizionale si trova nelle immediate vicinanze di Mirina e Platy. È circondato da molta vegetazione e ha una bella vista sul mare. Moudros, 27 km a oxt di Mirina. Moudros è la seconda città più grande di Lennos e ha un delizioso porto per le barche da pesca. Fu la base operativa della flotta greca nella Prima Guerra Mondiale. A Giosalexandros, 34 km a nord-oxt di Mirina, troverete questo villaggio tradizionale che sembra quasi abbandonato. Prodotti tradizionali. Non perdere l'occasione di assaggiare il sapore di Lennos, attraverso i suoi deliziosi prodotti nutrienti di alta qualità. Varietà di formaggi, in particolare Kanataki, famosi vini, licuori racchio ozzo, rinomati frumento, fette biscottate, pasta e pane croccante, miele e prelibatezze. Isola di Lennos. Una destinazione autentica. Bar-ristoranti. Alloggio. Ti è piaciuto il video? Pollice su. Dicci la tua opinione. Scrivi un commento. Condividilo. Sono Anastasios Grecos e ho appena visto il Guru dei Viaggi di Rannismos. Contattaci rannismos at gmail.com Grazie per aver guardato il nostro canale e abbonati per altri video, consigli di viaggio, avventure e paesaggi unici. Grazie per aver guardato il nostro canale. Grazie per aver guardato il nostro canale.